Dopotutto, quella notte l'essersi portati dietro il piccolo Bilbo si rivelò un'ottima cosa. Infatti, per un motivo o per l'altro, egli non riuscì ad addormentarsi per un bel po', e quando finalmente si addormentò, fece sogni bruttissimi. Sognò che una fessura nella parete posteriore della grotta diventava sempre più grande e si allargava sempre di più e lui aveva molta paura, ma non riusciva a dare l'allarme. O a far altro che restare disteso a guardare. Poi sognò che il suolo della grotta si spalancava sotto i suoi piedi e lui scivolava e cominciava a cadere giù, sempre più giù, chissà fin dove. A quel punto si svegliò di soprassalto e scoprì che una parte del sogno era vera. Sulla parete posteriore della caverna si era aperta una fessura ed era diventata abbastanza larga da formare un ampio passaggio. Fece appena in tempo a vedervi sparire la coda dell'ultimo pony. Naturalmente lanciò un urlo fortissimo, un urlo forte quanto lo può lanciare un hobbit. Il che è sorprendentemente forte, fidatevi. Ed ecco saltar fuori gli orchi. Orchi grossi, orchi enormi e brutti. Orchi a non finire, prima che si potesse dire massi e sassi. Ce n'erano almeno sei per ogni nano e perfino due per bilbo. E furono tutti agguantati e trascinati verso la fessura, prima che si potesse dire miccia e acciarino. Tutti tranne Gandalf, però. L'urlo di bilbo era servito almeno a questo. Lo avevano completamente svegliato in una frazione di secondo e quando gli orchi si avvicinarono per agguantarlo nella grotta ci fu un bagliore terribile, come un lampo, un odore di polvere da sparo. E molti di loro caddero morti. La fessura si chiuse con uno scatto e bilbo e i nani si trovarono dall'altra parte, quella sbagliata. Dov'era Gandalf? Nel loro negli orchi ne avevano la più pallida idea e gli orchi non persero tempo a scoprirlo. Acciuffarono bilbo e i nani e li spinsero avanti in gran fretta. Il buio era fittissimo, tanto che soltanto orchi abituati a vivere nel cuore delle montagne potevano vederci. C'erano passaggi che si incrociavano e si intrecciavano in tutte le direzioni, ma gli orchi conoscevano la strada come voi conoscete quella per l'ufficio postale più vicino. E la strada continuava a scendere ed era terribilmente soffocante. Gli orchi erano molto maneschi e li pizzicavano senza pietà, sghignazzando e ridendo con le loro voci cavernose. E Bilbo si sentiva perfino più infelice di quando il troll lo aveva sollevato. Pensò con rinnovato e intenso desiderio al suo buco hobbit così comodo e luminoso. Non fu nemmeno questa l'ultima volta. Davanti a loro apparve un balenio di luce rossa. Gli orchi si misero a cantare o piuttosto a gracidare, accompagnandosi col battito dei piedi sulla pietra e scuotendo ritmicamente i loro prigionieri. Azzanna, afferra, sei sotto terra. Aciuffa e mortifica, spazia e scardifica. Picchia, colpisci. Col dolore azzitisci. Una cosa spaventosa. Le pareti echeggiavano di acciuffa, sbatti, picchia e fracassa e del sinistro sghignazzare del loro sottoterra. Il significato generale della canzone era fin troppo chiaro. Infatti, a un certo punto, gli orchi tirarono fuori le fruste e le schioccarono facendole sibilare e schioccare. E così costrinsero tutti a correre a perdifiato davanti a loro. E più di un nano già gemeva e frignava, più non posso, quando entrarono barcollando in una grossa caverna. Era illuminata da un gran fuoco rosso al centro. E da torce appese alle pareti e pullulava di orchi. Risero tutti e applaudirono freneticamente quando i nani entrarono correndo. Mentre dietro di loro gli orchi che li spingevano facevano schioccare e sibilare le fruste. I poni erano già lì, ammassati in un angolo e c'erano anche i loro bagagli e fagotti, affastellati per terra, messi sottosopra dagli orchi, annusati dagli orchi, maneggiati dagli orchi e gli orchi se li litigavano. Temo che questa sia stata l'ultima immagine che ebbero di quegli eccellenti poni, incluso un piccolo letto bianco, il gagliardo che Herond aveva prestato a Gandalf, dal momento che il suo cavallo non era adatto per i sentieri montani. Il fatto è che gli orchi mangiavano cavalli, poni e somari e sono sempre affamati. Comunque, per il momento i prigionieri pensavano solo a se stessi. Gli orchi li incatenarono con le mani dietro la schiena e li legarono tutti insieme, uno dopo l'altro e poi li strattonarono verso l'estremità più lontana della caverna, col piccolo bilbo che si trascinava in fondo, ultimo della fila. Là, nelle tenebre, su una pietra larga e piatta sedeva un orco orrendo dalla testa enorme e intorno a lui stavano in piedi diversi orchi armati dalle asce e dalle spade ricurve che sono soliti usare. Come si sa, gli orchi sono creature malvagie e crudeli. non fanno cose belle, però ne fanno di molte ingegnose. Possono scavare gallerie e miniere con bravura pari a quella dei nani più abili quando lo vogliono, anche se di solito sono disordinati e sporchi. Fanno molto bene martelli, asce, spade, pugnali, tenaglie e anche strumenti di tortura o li fanno fare in base ai loro disegni ad altra gente, prigionieri e schiavi che devono lavorare finché non muoiono per mancanza di aria e di luce. Non è improbabile che abbiano inventato alcune delle macchine destinate ad affliggere il mondo, specialmente gli ingegnosi congegni per uccidere un gran numero di persone tutte insieme, poiché ruote, ingranaggi ed esplosioni gli sono sempre piaciuti moltissimo. Così come lavorare il meno possibile con le proprie mani, ma in quei giorni e in quelle contrade selvagge non avevano ancora fatto tanti progressi. Non odiavano i nani in modo particolare, non più, cioè non più di quanto odiassero tutti e tutto. E principalmente la gente pacifica è prospera. Anzi, in certi posti alcuni nani malvagi si erano perfino alleati con loro, ma avevano un rancore particolare verso il popolo di Thorin, a causa della guerra di cui avete sentito parlare, ma di cui non si tratta in questa storia. E comunque, agli orchi non importa chi catturano, purché riescano a farlo con furbizia e segretezza, e i prigionieri non siano capaci di difendersi. a farlo con furbizia e segretezza, e i prigionieri non siano capaci di difendersi. e i prigionieri non siano capaci di difendersi.